Ciao, io sono Ferry ASMR, ti do il benvenuto in questo video, oggi ti condurrò in un viaggio di gusto sonoro alla scoperta dello stranchino cremoso pallevata, che profumo! sembra davvero super cremoso, andiamolo a provare freschissimo morbido adesso andiamo a provare l'appinamento con una carota a provare l'appinamento con una carota devo dire che l'appinamento tra la morbidezza dello stranchino e la crocatezza della carota è perfetto voglio provare anche con questo un rabanario un rabanario vediamo un po' anche questi involtini di zucchino stranchino zucchino del peperoso un rabanario vediamo un po' naturalmente stranchino andiamo ad aggiungere un po' di insieme di sesamo dostate proviamo proviamo buon 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 e soprattutto questa consistenza morbida cremosa naturale ti invito assolutamente a provarlo e noi ci vediamo alla prossima grazie